Grazie Presidente. In quest'Aula un po' vuota, in quest'Aula nella quale non vedo presenti gli amici o molto pochi del Partito Democratico, io, che sono probabilmente fuori, vorrei chieder loro se mi ritengono fuori dell'arco costituzionale. Dal momento che il Vice-Segretario, non certo all'ultimo iscritto del Partito Democratico, si è rivolto alla mia Presidente nazionale dicendo che è posta fuori dall'arco costituzionale. Lo ha scritto, non lo ha detto. Quindi verba volant ma scripta manent. Prima di iniziare voglio rivolgermi ai colleghi sperando che non mi ritengano al di fuori dell'arco costituzionale, che non ritengono il partito che oggi viene considerato dalla maggior parte dei sondaggisti il primo partito italiano, un partito per volontà del Vice-Segretario del Partito Democratico al di fuori dell'arco costituzionale. Detto questo, signor Presidente, io entro nel merito... Sì, metto la mascherina, collega, grazie del suggerimento, mi perdoni. Detto questo, signor Presidente, io entro nel merito dei problemi perché non sono uso scapparne, ma certamente sono anche solito ricordare le affermazioni poco democratiche che vengono dette in questi giorni, in un clima nel quale il confronto civile dovrebbe essere dimostrato prima di tutto da chi ha incarichi politici e ricopre ruoli importanti e di riferimento per il nostro Paese. Allora, vede, noi oggi siamo qui a parlare di crisi di impresa. Crisi di impresa in un momento di crisi pandemica, in un momento nel quale ci sono davvero centinaie di imprese. Penso ad alcuni settori, il settore del ballo, il settore del gioco, penso ai momenti di grande difficoltà che hanno trascorso i settori della ristorazione, dell'alberghieri, il turismo. Ebbene, con tutte queste crisi c'è un decreto che di buono fondamentalmente c'è una cosa solo, le proroghe. Perché di fatto la montagna ha partorito il topolino della proroga che ci voleva, ma certamente ci voleva anche molto di più, come Fratelli d'Italia ha detto e ha chiesto, e come i nostri validissimi colleghi di Fratelli d'Italia, qui il collega senatore Balboni, hanno più volte ribadito nelle commissioni competenti. E allora perché questo decreto, oltre alle proroghe, non ha voluto dare dei riscontri anche sugli aiuti, su aiuti che sono stati insufficienti, anche solo raffrontandoli a quelli degli altri Paesi, dei Paesi dell'Europa alla quale tanto si fa riferimento. Ebbene, qualche aiuto si doveva si poteva dare ai settori più colpiti dalla crisi e quindi dalla pandemia. Si poteva affrontare anche il tema del credito, perché sappiamo, o meglio dove si dovrebbe sapere per chi è uso ad impegnarsi professionalmente nelle aziende italiane, sappiamo che il tema del credito è uno dei temi fondanti e fondamentali della crisi d'impresa. Sappiamo benissimo che tutte le preoccupazioni che esistono sugli NPL che dal prossimo anno, a seguito della fine delle moratorie, potrebbero aggravare il nostro sistema economico nazionale. Sappiamo benissimo che ci troviamo in un mondo del credito dove le PMI italiane, cioè quelle PMI che citavo prima, quelle PMI che più di altre hanno sofferto la crisi pandemica, bene, quelle PMI già negli ultimi dieci anni, dati della CGA di Mestre, hanno avuto un meno 26% di accesso al credito. E adesso, tra pochi giorni, alla fine di questo mese, avremo la completa attuazione di Basilea 3. Quindi ulteriori difficoltà per dare liquidità e credito alle nostre imprese. E questo decreto, colleghi, ha previsto qualcosa? Nel momento in cui abbiamo, avete discusso nelle commissioni di questi temi, quello che è forse il problema fondamentale di un'impresa in crisi, cioè il credito, alla luce appunto di quello che abbiamo detto, di Basilea, della riduzione del credito negli ultimi dieci anni, alla luce del calendar provisioning. Ecco, alla luce di tutti questi problemi, alla luce delle moratorie in scadenza, mi pare che nulla sia detto. Nulla sia detto. Abbiamo cercato, certamente, di fare delle proposte, come è consuetudine di un partito assolutamente all'interno dell'arco costituzionale, di un partito, cari colleghi, del Partito Democratico, che sta difendendo da solo, con un piccolo manipolo di valorosi rappresentanti dei cittadini, sta difendendo le libertà, la Costituzione, la democrazia, un partito che, nonostante i vostri continui ricorsi al voto di fiducia, mi piacerebbe rileggere agli amici 5 Stelle quello che dicevano la scorsa legislatura del ricorso al voto di fiducia. Mai, come in questa legislatura, nei quali siete stati al Governo con tutte le maggioranze possibili, colleghi del Movimento 5 Stelle, credo che non sia un parere ma un'oggettività. Ecco, mi piacerebbe capire il perché le violazioni della Costituzione le avete perpetrate peggio di quello che facevano i tanto accusati a vostri attuali alleati del PD che oggi abbracciate e ieri offendavate. Mi piacerebbe capire chi è che sta difendendo e che sta lottando contro l'abuso della decretazione d'urgenza, chi è che sta cercando di difendere le libertà dei cittadini di non dover sottostare a un green pass obbligatorio unico Paese al mondo e costringere le imprese che non vogliono limitare la propria produttività a pagare di propria tasca, anche le imprese in crisi, colleghi, anche le imprese in crisi, a pagare di propria tasca il tampone per i lavoratori, perché un'azienda, una PMI, senza un 20% dei propri dipendenti non è in grado di proseguire il proprio impegno, il proprio lavoro e voi li state costringendo, voi e la CGL e i sindacati, a pagarsi i tamponi di tasca propria. È inaccettabile, altro che crisi di impresa. E allora, colleghi, i fratelli d'Italia non finirà di difendere le libertà, di difendere la Costituzione, che quelli che si ritengono all'interno dell'arco costituzionale stanno tradendo ogni giorno, non si fermerà di fronte a nulla, continuerà a difendere gli italiani e a difendere i cittadini e i lavoratori. E allora, vedete, abbiamo anche presentato un emendamento, un emendamento importante, che non aveva colore politico, non era né di destra né di sinistra. È stato semplicemente dichiarato inammissibile. Credo che sia giusto che si sappia, che i fratelli d'Italia chiedeva che quelle imprese che assumono lavoratori in cassa integrazione, senza possibilità di continuità dell'attività, perché magari in cassa integrazione a zero ore di imprese fallite, ecco, chi assumeva, chi assumerà quei lavoratori, se aveste accolto il nostro suggerimento, avrebbe beneficiato del Jobs Act, delle agevolizioni contributive. Ebbene, sì, ce lo avete reso inammissibile. Cioè, voi avete reso inammissibile un provvedimento che noi chiedevamo per facilitare l'assorbimento nell'economia reale di quei lavoratori, ribadisco, in cassa integrazione a zero ore e senza possibilità di poter avere un futuro. La maggioranza, il Governo, la Presidenza del Senato lo ha dichiarato inammissibile. E questo nasce non da intuizioni, ma nasce dal conoscere i problemi dell'azienda. Nasce dal fatto che nel mio Trentino un'azienda, un'azienda che dà lavoro a centodipendenti, rischia di chiudere perché l'Inps li sta contestando i benefici del Jobs Act dopo che loro avevano salvato lavoratori a zero ore in cassa integrazione. Allora, colleghi, sui temi confrontatevi, non chiudetevi all'interno delle barriere degli steccati, evitate di fare quello che sta succedendo ignobilmente in queste ore, dove invece che parlare delle imprese, delle aziende, dei problemi di Torino, di Milano, di Roma, si sta parlando di tutt'altro. Si sta parlando di tutt'altro. Una strategia della tensione che è una strategia antidemocratica, che è una strategia contraria agli interessi del Paese e che purtroppo stiamo vivendo tutti, tutti noi cittadini sulla nostra pelle. Ecco perché ho voluto svolgere questo ragionamento e concludo, signor Presidente, ho voluto svolgere questo ragionamento partendo da dati concreti, partendo dal DL crisi d'impresa, ma allargando anche la politica. Perché se la politica è questa, un profondo esame di coscienza ce lo dobbiamo fare tutti e se lo devono fare soprattutto coloro che invece che dare risposte danno offese e offendono l'unica opposizione di questo Paese. Grazie.